Ma io credo che fosse abbastanza simile come tipo di amore, come intensità, poi ognuno a modo suo ma se no non sarebbero resistito, non avrebbero resistito, quando sono conosciuti mia madre aveva 15 anni, è andata fino alla fine, quindi sono tanti anni di un uomo sicuramente complesso, complicato, non un marito di quelli che vanno dritto per dritto e con un lavoro particolare, poi mia madre era una un po' più, molto più pigra, le piaceva stare a casa, la sera le piaceva andare a letto presto, mio padre no, il contrario, quindi anche quello con grande diversità, penso che sia stato simile. E ricorda qualche momento particolare dove effettivamente si evidenziava questa scintilla amorosa tra i due? Non ci sono state delle situazioni? Non erano due che si abbracciavano in pubblico, erano molto timidi e c'era una certa pruderia nel loro raccontare all'esterno, quindi era una cosa che si vivevano molto più in privato, anche con noi bambini voglio dire. Si dice che i genovesi sono un po' come gli inglesi, che non ostentano i sentimenti, forse la parola intellettuale è un po' abusata, però io credo che se c'è uno dei nostri comici, anche per la sua attività di scrittore, che può essere veramente definito un intellettuale, si auguro. E' bello quando Vettroni credo dice un intellettuale popolare, cioè voleva arrivare a tutti e questa era la cosa bella che ci ha regalato appunto, sicuramente non parlava un'elite. Poi una cosa che non c'è nel film è che c'è stato un momento in cui c'è stato anche un posizionamento politico molto importante da parte di... No, 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 non l'avrete messo per motivi vostri, non voglio sapere perché non c'è. Dico, si è anche schierato, che di solito nelle persone dello spettacolo, almeno in quei tempi, erano difficili, insomma, e proprio si schierassero. Un amico che non abbiamo citato, che non apparteneva, sì, si conosceva, non apparteneva, però diciamo, al giro legato a Ugo, però era un grande amico di Paolo e era Volontè, no? A Maria, c'è Maria Volontè. Forse è stato uno dei veratori per cui la Ugo sta spinta politica. Sì, ma quello, posso dire, quello che noi abbiamo cercato di fare è raccontare, abbiamo cercato, non so se vuoi dirlo, raccontare a tutto tonno mio padre, quindi una persona comunque complessa e che ha fatto tante cose, perché ha cominciato come scrittore, ha cominciato come intrattenitore anche a livello amatoriale o con gli amici, ha fatto un pezzo di storia della televisione, ha fatto un certo tipo di cinema, cioè si è inventato un personaggio, noi quando eravamo seduti lì avevamo una classe di ragazzini delle medie, ha detto, un documentario su Paolo Villaggio, chi è Fantozzi? Ha Fantozzi, quindi questo personaggio rimane anche alle nuove generazioni. Poi ha fatto anche l'attore serio, ha vinto dei premi molto importanti, ha scritto anche due canzoni, quindi è stato un personaggio che ha fatto tante cose e abbiamo cercato di raccontare non l'intellettualità, che è questa parola che sta lassù, che può essere definita o non definita, ma raccontare una persona comunque complessa che ha fatto tante cose. Sì, la voce della luna. Mio padre ovviamente era felice di lavorare con Fellini come lo sarebbe stato, qualunque attore e non solo italiano. E poi io l'ho incontrato, una volta sono andato una notte sul set e sembrava di stare sul set americano, perché c'erano queste luci imponenti, una truppa enorme, come tutti che lo chiamavano maestro, maestro, la prima volta che sentivo Ezio, si chiama maestro, chiunque all'epoca no. E Fellini me lo ricordo, appunto l'ho incontrato poche volte, ma come una persona molto curiosa, umile e che ti chiedeva di te, non parlava di se stesso, ma era curioso e ti chiedeva di te. No, no, volevo citare una, mi ero venuto in mente parlando di Panatta, che Ugo e Paolo sono responsabili di una sconfitta alla finale del torneo di Monte Carlo. Era arrivato in finale con una stasa, non so con chi. Una sconfitta di Panatta. Sì, e allora avevano visto la semifinale insieme e alla sera, alla sera prima della finale, a un certo punto, provano a coinvolgere Panatta, e Panatta dice no, vengono a dormire presto, vengono a dormire presto, vabbè, allora dice, sono andati a mangiare due o due, poi finita la cena dice, chiamiamo Panatta, l'hanno chiamato a mezzanotte, l'hanno trascinato fuori dal letto e gli hanno fatto perdere la finale. Ma secondo me Panatta è stato contento così, conoscendolo.